Ciao allora, io sono, mi chiamo Tatiana Schirinzi e sono una consulente SEO, però vi parlerò oggi di tutt'altro, di autostima. Dunque, io ho avviato la mia attività otto anni fa, all'inizio ero da sola e poi negli ultimi anni siamo in due, io, il mio socio Andrea e la nostra assistente virtuale, Antonella, ecco, ciao. Dunque, l'attività va molto bene, il punto è che l'attività mi rende molto felice, mi piace un po' tutto, guadagniamo quello che ci serve, negli ultimi anni non lavoro molto, lavoro addirittura spesso 30 ore, a volte anche 40, a volte 20 e mi piacciono i clienti, mi piace come ho organizzata la mia giornata, mi piacciono le persone con cui lavoriamo, perché infatti oltre a noi tre c'è un team che io amo definire un team liquido di altri professionisti, molti sono qui, ad esempio copywriter, web designer, social media manager, ed sono proprio queste relazioni la forza della nostra attività, queste relazioni positive. Comunque, negli anni mi chiedevo appunto come mai l'attività va così bene, mi rende così soddisfatta, non ho quei problemi di cui spesso sento parlare, non ne ho così tanti almeno, non sono così preponderanti. Quindi mi chiedevo questa cosa e poi mi sono imbattuta in questo libro, quel libro che dà il titolo al talk, si chiama appunto I sei pilastri dell'autostima ed è un libro del 95 scritto dallo psicoterapeuta americano Nathaniel Branden, è una sorta di classico sull'autostima. E quindi in questo libro la cosa interessante è che ho trovato formalizzate un po' tutte le cose che avevo applicato negli anni alla mia attività, tutte le cose che avevano funzionato. Quindi siccome le abbiamo già trovate formalizzate nel libro, ve le spiego, sperando che possano essere utili anche a voi. Allora, vediamo innanzitutto cosa succede lavorando in assenza di autostima. Allora, prima facciamo una piccola definizione dell'autostima. Allora, autostima non è ad esempio guardarsi allo specchio e dire ah ciao sono molto bella oggi e simpatica, oppure non è dire ah ce l'andrà tutto bene, ce la farò sicuramente. Non è questo. È qualcosa che ha a che fare diciamo molto con l'integrità e con la responsabilità. È qualcosa che si può aumentare comportandosi bene, lavorando bene in sostanza, man mano si aumenta e si attiva un circolo virtuoso. In particolare Branden la definisce come due cose. Uno, la consapevolezza dell'auto-efficacia e l'altra il rispetto di sé. Vediamo un attimo, l'auto-efficacia è semplicemente la consapevolezza di essere in grado di fare il mio lavoro. Quindi se ho problemi su questo posso aumentare magari le mie competenze, però quindi ho un lavoro sicura, convinta di poter fare il mio lavoro, di poter sostanzialmente aiutare il mio cliente. E ho anche fiducia nella mia capacità di pensare e di giudicare. Molto importante, se io devo guidare il cliente come professionista, se non ho fiducia in questo, insomma, avrò dei problemi. Invece rispetto di sé, vedremo che alcuni magari di noi possono essere più carenti in un senso, alcuni più carenti nell'altro. Rispetto di sé ha invece a che fare con la convinzione del diritto a essere felici. Allora, quindi il diritto, io lavoro convinta di avere diritto a essere felice, ad avere successo, a guadagnare quello che mi serve, ad avere buone relazioni, ad avere una buona qualità della vita e anche sono convinta di avere il diritto di godere dei frutti del mio lavoro. Questo se pensiamo è sovversivo, no? Immaginiamo se tutti fossero convinti di avere diritto a godere dei frutti del proprio lavoro, è una cosa proprio straordinaria. Quindi, immaginiamo, tenendo presente questo, che succede se io lavoro senza autostima? Un sacco di cose brutte, allora, succede. Quindi, innanzitutto non riuscirò neanche a organizzare i miei servizi, a presentarli, perché mi sembreranno inutili, troppo facili, poco di valore. Mettiamo anche che, questa è proprio la base, no? Mettiamo anche che riesco a organizzarli, non riuscirò poi a dargli il giusto prezzo. Poi un'altra cosa che farò, invece di concentrarmi sul lavoro, darò molto l'accento a fare finta di lavorare, far vedere che lavoro. Quindi, per esempio, io come consulente SEO, invece di ottimizzare il sito del mio cliente con coscienza, secondo le buone pratiche del settore, secondo quello che mi sembra giusto, magari proporrò al cliente un sacco di call per lusingarlo, per rassicurarlo, per far vedere che lavoro, no? Ma di fatto non farò il suo bene, perché invece di lavorare starò parlando con lui, diciamo. Poi un'altra cosa che farò sarà, in assenza di autostima, sarà non mettere paletti. Quindi, per esempio, darò al cliente il mio numero di telefono, lui mi chiamerà, non so, il sabato sera, non so, mi chiamerà di notte e quindi io penserò di colmare le mie lacune, che sono convinta di avere, con una estrema disponibilità. Però poi ne sarò stressata, mi lamenterò e quindi capite che si attiva un circolo vizioso. Poi un'altra cosa che farò, appunto, in assenza di autostima è che non sarò in grado di affermare la mia visione con il cliente e questo per un professionista è molto pericoloso, no? Mettiamo di essere una web designer. Invece di fare il sito al cliente come credo che sia giusto, un sito che davvero credo che possa funzionare, che lo aiuti nella sua attività, farò un po' quello che mi dice. Lo accontenterò, lo faccio, non so, fucsia, lampeggiante, non so. E quindi è sempre per lusingarlo, perché non ho autostima. Quindi la lusinga mi sembra l'unica strada. Poi un'altra cosa che farò in assenza di autostima sarà temere il talento degli altri. Quindi invece di circondarmi di persone talentuose, cercherò o persone con meno talento di me, quindi con meno talento di me, perché temo il confronto, oppure sceglierò, questo in automatico è più sottile, le persone che mi lusingano e non riuscirò a valutare, non sono nella loro integrità, nelle loro capacità e quindi avrò questo team terribile di persone che mi lusingano. Poi appunto, in assenza di autostima, avrò tanta paura di sbagliare, quella ce l'abbiamo tutti, però ne avrò paura particolarmente, quindi tenderò a nascondere gli errori. Ammettiamo, io lavoro tanto con i dati, mi metterei a falsificare i dati, addirittura magari, oppure avrò problemi a scusarmi e se qualcuno mi fa notare che ho sbagliato andrò sulla difensiva. E poi un'altra cosa che farò ancora in assenza di autostima sarà non forzerò i miei limiti, quindi sarò resti a imparare cose nuove, farò sempre le stesse cose, non accetterò degli incarichi che rappresentano un po' una sfida. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente stamattina e che farò in assenza di autostima è, avrò ribrizzo delle persone a cui piaccio, questo è molto importante, quindi non tollererò il cliente a cui piaccio, il collega che mi si rivolge gentilmente, non tollererò le persone che hanno bisogno di me, perché se mi faccio schifo non posso tollerare questa cosa. Quindi detto questo invece, che succede in presenza di autostima, io lavorerò sicura, felice, convinta di quello che faccio, non avrò problemi a mettere dei paletti con il cliente, ma al tempo stesso non avrò problemi a essere gentile, ad accogliere con piacere le richieste di preventivo, perché le vedrò come una cosa naturale e bella, mi circonderò di persone di talento e così via. Quindi perché succedono tutte queste cose belle, vediamo come possiamo fare, vediamo questi sei pilastri dell'autostima, allora sei pilastri li possiamo considerare anche come sei pratiche, perché sono allo tempo stesso elementi che compongono l'autostima e pratiche con cui la possiamo alimentare giorno per giorno. Ovviamente possiamo anche fare psicoterapia, anzi la straconsiglio a tutti, altre cose, però vediamo un po' nel lavoro quotidiano come possiamo alimentare questo circolo virtuoso, ci sono tutte cose davvero che io ho fatto, l'autostima è aumentata lavorando naturalmente. Allora quindi la prima cosa è lavorare con consapevolezza, quindi essere sempre coscienti di quello che stiamo facendo con onestà e di perché lo stiamo facendo, ad esempio non so, voglio usare il calendario di Google, lo faccio, l'importante è che mi ammetto di usarlo e so perché, perché lo sto facendo, non magari lo faccio in automatico perché l'ho sempre fatto, perché lo fa il mio collega, oppure non so, io spesso nelle giornate di lavoro se non ho riunione mi sveglio senza sveglia, questo va benissimo però perché io lo faccio con consapevolezza, diverso sarebbe se mi svegliassi alle 11 con senso di colpo oppure sconvolta, ecco quindi attivare sempre consapevolezza. Il secondo pilastro vicino a questo è quello dell'accettazione di sé, quindi andiamo ad accettare quello che proviamo per quello che è e anche quello che facciamo. Accettare non vuol dire esserne contenti, magari ad esempio ho fatto un errore, non ne sono contenta, però lo accetto, non lo nascondo a me stessa, oppure stamattina ero molto agitata perché non mi sento troppo efficace nel parlare in pubblico, però questo non significa che mi sono andata a nascondere, l'ho accettato, sono venuta allo stesso, quindi non sempre accettare significa poi comportarsi di conseguenza in senso negativo. Quindi questi due primi pilastri riguardano un po' la consapevolezza e l'accettazione, dopodiché veniamo al terzo pilastro, il terzo pilastro è quello dell'assertività, una parola magari che sentiamo spesso, non sappiamo bene cosa significa, comunque assertività la intendiamo come rendere onore ai propri bisogni, ai propri desideri e ai propri valori e li affermiamo senza prevaricare l'altro. Quindi cosa può significare? Ad esempio io ho il bisogno di non usare il telefono mentre lavoro, per quanto mi piace, in realtà a me piace parlare al telefono, però non lo posso fare perché primo devo lavorare concentrata, non posso avere interruzioni, secondo i messaggi su whatsapp, poi non li potrei archiviare e gestire, andrei veramente usando il telefono forse perderei tre ore nella giornata se non di più, quindi questo è proprio un mio bisogno. Allora dopo i primi anni ho affermato chiaramente questo bisogno con i miei clienti, anche se sembrava una cosa strana, sovversiva, le persone mi dicevano ma si vede che tu hai dei clienti particolari, no, non è vero, spesso sono gli stessi clienti che avete voi, forse dovessi proprio gli stessi, però semplicemente appunto io ho affermato questo bisogno senza grandi cerimonie, le persone l'hanno accettato, ovviamente io in cambio io per esempio rispondo alle email ogni giorno due volte al giorno, di solito una o due, quindi affermare questo bisogno non significa, non so, tirarmela con il cliente, non essere disponibile, non rispettare il fatto che mi stia pagando, una cosa non implica l'altra, anzi forse è al contrario, perché riesco a fare un lavoro molto migliore per il cliente non usando il telefono, nel mio caso, non per forza questo poi è un bisogno di tutti, è un bisogno mio, oppure un'altra cosa, un altro aspetto dell'assertività appunto è affermare i propri valori lavorando in modo appropriato al contesto, quindi ad esempio un mio valore è l'antirazzismo, allora cosa significa affermarlo in modo appropriato al contesto? Una volta può essere anche semplicemente non ridere a una battuta, una volta può essere dirlo con forza, un'altra volta non so fare una faccia un po' guardare male qualcuno, in modo appropriato al contesto senza prevaricare l'altro, per esempio che significa? Mi viene in mente, una volta ero a un pranzo con una nostra cliente, con Andrea il mio socio, e questa cliente praticamente aveva fatto un viaggio in Malesia e parlava un po' male della comunità cinese in Malesia, per coincidenza però, io avevo letto da poco Stranieri su un molo, che è un libro proprio che parla dell'immigrazione cinese in Malesia, quindi la cosa mi aveva proprio toccata, ero molto arrabbiata, però Andrea il mio socio mi ha suggerito di non abbandonare il pranzo perché sarebbe stato fuori luogo anche perché la cliente, no? È vero però, la cliente è una persona molto carina con cui condividevamo la maggior parte dei valori, magari era stata un po' superficiale, però non era il mio compito giudicarla, eccetera, quindi per esempio gli ho spiegato un po' del libro, quindi ho affermato il mio valore dell'antirazzismo però in modo appropriato al contesto e anche preservando la relazione, diciamo, anche perché alla fine non sarebbe stato utile abbandonare il pranzo, diciamo, non avrebbe cambiato idea, forse il contrario. Quindi abbiamo visto in questo modo i primi tre pilastri, poi veniamo al quarto pilastro che tra i miei preferiti è quello della responsabilità, è fondamentale per noi che lavoriamo in proprio. Cosa significa responsabilità? Accettare che nessuno ci verrà a salvare, anche se è durissimo, accettiamo che nessuno ci verrà a salvare, dipende tutto da noi, quanto guadagniamo, a che ora lavoriamo, dove lavoriamo, con chi sono i clienti, chi sono i colleghi, come è fatta la nostra giornata. Prima lo accettiamo, meglio è, proprio questa è la chiave, una delle chiavi di volta. Però questa responsabilità non vediamola in senso negativo, come un peso, come una cosa che ci deve dare senso di colpa, al contrario, la responsabilità è la chiave per la libertà, più siamo responsabili, più siamo liberi. Accettiamolo, quindi prendiamoci la responsabilità e andiamo verso questo cammino di libertà che, insomma, è questo il significato di lavorare in proprio, secondo me. Veniamo così al quinto pilastro, questo è quello un po' più spinoso che quello, diciamo, dell'intenzionalità. Per aumentare l'autostima andiamo a lavorare con intenzionalità, quindi una volta che siamo consapevoli, ci siamo assunti la responsabilità, organizziamo il nostro anno, il nostro mese, la nostra giornata in modo conseguente. Se abbiamo problemi, cerchiamo, non so, una professional organizer, non so se c'è Chiara, qui, sì, ok. Allora, quindi che significa? Mettiamo che io dico, ok, ma ho proprio bisogno di dedicare più ore alla consulenza, sia vera e propria, voglio dedicare più tempo a questo. Quindi, a quel punto, devo procedere con l'intenzione, quindi magari o cerco un assistente virtuale, se non ce l'avessi, oppure ristrutturo il concetto di riunione, no? Ne propongo meno, rivedo un po' i miei processi. Se invece, magari, continuo a fare come ho sempre fatto, alla fine non sto lavorando con intenzionalità. Va bene, e veniamo quindi così al sesto pilastro, che è l'altro mio preferito, è quello dell'integrità. Allora, questo proprio ve lo straconsiglio, perché funziona tantissimo. Allora, integrità significa, cioè lo intendo come allineare i propri comportamenti ai propri valori. Questo ha un grande vantaggio, non lo vediamo come una cosa di buonismo, no? Come dice Rocco, oppure di altruismo, è proprio una cosa che funziona per fatturare di più. Prendetela così, no? Allora, quindi ad esempio, non so, a me non piacciono tanto, facciamo un esempio, gli allevamenti intensivi, oppure il traffico d'armi, oppure le cose che creano dipendenza, no? Magari può essere l'udopatia o anche dipendenza dalle sigarette, pur fumando io stessa, però non mi piacerebbe mai essere responsabile di aumentare o mantenere la dipendenza di qualcun altro. Quindi io, per esempio, non prenderò mai clienti in questi settori, mai, mai, potrebbero offrirmi qualsiasi cifra, mai. E questo però cosa mi permette? Di andare a letto serena, veramente, di andare a letto serena e di svegliarmi il giorno dopo con energia, di attirare nuove opportunità positive e in sostanza davvero di fatturare di più e di non avere stress. Quindi è proprio una cosa che funziona, no? Diciamo, non tradisco me stessa, magari i valori vostri possono essere altri, non importa, purché magari, diciamo, una cosa consigliata è se proprio i valori danneggiano, in realtà vanno contro noi stessi, potremmo rivederli, però ammettiamo di averli già assodati, non tradendo se stessi, insomma si dorme bene e si lavora meglio. Oppure un altro esempio potrebbe essere un altro mio valore o in qualche modo una distribuzione equa dei redditi, no? Diciamo. Quindi se io, ok, dicessi così, però poi cerco un assistente da pagare 10 euro l'ora, allora non avrebbe senso, no? Quindi come dico sempre, questi soldi risparmiati li spenderei in medicina, ecco, quindi bene, questo è tutto, grazie. Che bello, grazie, grazie.